bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le novità delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti devo dire che in questi giorni è abbastanza difficile cercare di trovare qualcosa di interessante perché epic games come sapete è in vacanza tutto lo staff o comunque la maggior parte quindi dovremmo avere un po di pazienza e passare l'anno prima di avere sicuramente la patch 15.20 e tutte le cose nuove ma nel video di oggi voglio comunque farvi vedere delle cose che hanno aggiornato proprio ieri che riguardano la vecchia il vecchio capitolo le vecchie season parliamo anche del nuovo bundle e di tanto altro per quanto riguarda la creativa prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta del nuovo pack di marvel l'ultimo pack di marvel che è disponibile da qualche ora o arriverà nel pomeriggio comunque oggi ci sarà l'uscita del nuovo pack fortnite marvel pack info con l'ultimo teaser abbiamo scoperto che arriverà appunto il pack marvel e costerà 24 euro e 99 25 dollari giustamente loro arrotondano quindi soldi veri ragazzi conterrà 3 skin 3 backpack 3 picconi e 2 deltaplani ovviamente molto rapidamente vi faccio vedere di cosa stiamo parlando parliamo della skin di black panther davvero molto molto fatta bene davvero molto bella della skin insieme a black panther di capitan marvel quindi la ragazza con tanto di costume da supereroe e per terminare task master ragazzi l'ultima delle tre skin che avete anche visto prima nell'immagine ufficiale del trailer eccolo qua ragazzi task master quindi un nuovo bundle per tutti gli appassionati di marvel non dovrebbe comunque esserci niente oltre a quello quindi nessuna collaborazione solamente un'ultima uscita se volete aggiungerlo alla vostra collezione c'è la pagà 24 99 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché tante notizie per quanto riguarda la nuova modalità creativa o meglio la nuova possibilità di lavorare per la creazione di mappe personalizzate è una cosa veramente difficilissima anche per me da spiegarvela ma cerco di farvela nel modo più semplice possibile questo intanto è un tweet direttamente dalla pagina ufficiale di fortnite creative e entrate nella nella unreal quindi nell'irreale che sarebbe il nome ovviamente della real engine 5 il motore grafico che fortnite adotterà per portare ad un altro livello di esperienza di gioco il proprio battle royale l'anno ovviamente è questo il 2021 che sta per arrivare e sarà l'anno dell'upgrade del motore grafico fanno come vedete su twitch nella pagina ufficiale di unreal engine ogni tanto delle live dove vi fanno vedere quello che si potrà fare perché sembrerebbe che verrà data la possibilità a tutti di lavorare con i tool di creazione modifica che appunto servono per far funzionare e per modificare gli oggetti in game con la real engine full unreal engine editor available to create things on for fortnite quindi potrete creare qualsiasi cosa per fortnite abilità possibilità di customizzare i materiali esistenti e tutte le impostazioni generali alcuni modelli che vi verranno forniti ci saranno di già e potranno essere modificati per darvi un'idea parliamo di una roba del genere io credo che loro vogliano dare la possibilità a tutti di poter mettere le mani ovviamente sui modelli sulle cose da creare per togliersi un po di lavoro e magari avere qualche idea che potrebbe arrivare da qualcuno di voi però stiamo parlando di programmi che secondo me se non è una base di studio sarà un pochettino difficile da poter manovrare potete veramente fare qualsiasi cosa io vi invito a guardare qualche spezzone se vi interessa questo argomento perché è un mondo aperto ragazzi modificate le cose modificate i colori modificate i materiali le strutture i corsi d'acqua insomma tutto tanta tanta roba vedremo se poi ne prepareranno uno un po più semplificato da dare in mano a tutti e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è una roba veramente curiosa nei file di gioco sono state trovate due stringhe due stringhe due stringhe riguardanti un nuovo veicolo a fort dagwood vehicle appley vehicle mod mounted gun wow vuol dire ragazzi che molto probabilmente non si sa quando vedremo un nuovo veicolo con una torretta montata sopra di lui una roba del genere per farvi capire questo ovviamente è un concept ma sarebbe una roba incredibile da vedere su fortnite ma neanche così esagerata non non ci vedo niente di strano alla fine abbiamo gli aeroplani che sparano abbiamo la possibilità di sparare noi stessi dai veicoli quando però giochiamo in coppia e la possibilità invece di avere un veicolo che si potrà utilizzare cioè io immagino che sto guidando vedo un nemico piglio switcho il posto mi metto sulla torretta e inizia a mitragliare come se non ci fosse un domani non abbiamo assolutamente idea parliamo ovviamente sempre dell'anno prossimo per quello che riguarda la possibilità di vedere una roba simile sul nostro fortnite ma secondo me è tanta tanta roba anche abbastanza particolare e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è anche l'ultimo argomento del video ve la ricordate questa immagine ragazzi questa è tilted town nella season x del capitolo 1 quindi un'evoluzione di tilted tower di pinnacoli come la conosciamo tutti beh ieri pomeriggio hanno aggiornato questa immagine ve la ricordate questa ragazzi era la statua presente all'ingresso di tilted town e se non vado errato la statua che fu proprio presa dal dal robottone che noi stessi costruimmo per combattere il cactus se non ricordo male e che poi rivelata era l'elsa della spada gigante non so perché abbiano deciso di aggiornare questa immagine ma potrebbe essere magari qualcosa dedicato ai nuovi portali che stanno piano piano apparendo nella mappa magari potrebbe essere uno squarcio dedicato al vecchio capitolo che chissà porterà magari una nuova tilted town insomma ragazzi io anche per oggi vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di lasciare un bel like un commentino raga aiutatemi a portarlo nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao